Va avanti l'iter per il potenziamento e il miglioramento delle infrastrutture portuali. Il sindaco Francesca Valenti e l'assessore alle infrastrutture Giuseppe Neri comunicano l'esito positivo della conferenza di servizi svoltasi al Genio Civile di Agrigento. Il progetto, che parte al ritroso nel tempo, prevede lo scavo dei fondali, uno scanno di imbasamento a quota meno 5 metri con petrame calcario, una banchina in pila di massi, scali di alaggio, un bacino da adibire a motoscalo per imbarcazioni fino a 25 metri, la costituzione di orlatura in calcare, la realizzazione di canali di raccolta per l'intercettazione delle acque di prima pioggia, la costituzione delle carreggiate stradali, degli impianti di trattamento di acque di prima pioggia e l'impiattistica idrica ed illuminotecnica. La conferenza dei servizi è stata aggiornata il 31 luglio per acquisire il solo parere non determinante dei vigili del fuoco. Il progetto, coperto da un finanziamento pari a 6 milioni e 100 mila euro, risulta coerente con il piano regolatore del porto e va a completare il quadro tipologico delle destinazioni delle due banchine di cui una ovest ha servito all'uso diportistico e l'altra est all'uso commerciale cantieristico. Si prevede che i lavori possano essere appaltati entro sei mesi, mentre per il completamento sono previsti 540 giorni utili. Procede dunque una procedura che dura da alcuni anni e per la quale l'amministrazione di Paola ha avuto un'interlocuzione continua con la regione siciliana per trovare la copertura finanziaria a un progetto che ha coinvolto i tecnici del Geno Civile Opere Marittime nella progettazione. L'importante opera è stata oggetto di una delibera dell'Aggiunta regionale che ha approvato un elenco di progetti cantierabili nell'ambito della nuova programmazione di fondi comunitari 2014-2020. Il potenziamento del porto di Sciacca fu inserito al terzo posto con l'indicazione della cantierabilità nel 2017. Erano stati i consiglieri comunali Calogero Bono e Giuseppe Miglioti nel mese di maggio a sollecitare l'amministrazione Valenti ad interessarsi del progetto. Bono e Miglioti avevano infatti accusato l'attuale amministrazione di non avere più seguito l'iter avviato dalla precedente, con il rischio che le somme destinate al progetto potessero essere dirottate altrove, perdendo il finanziamento. Adesso per fortuna sembra che l'iter si sia sbloccato.